...facciamogli fare due chiacchiere anche a lui, a te Mauizio Italia Uniform 1 OLC, Uniform 1 Mike Cabeca Romeo... Sì, riprende l'Italia Uniform 1 OLC di Macialli, Baratto 1, l'Italia di Genova. La modulazione, scusa ho fatto il tuo rapporto, prima quando l'hai chiesto, era ottima. Sì, è ottima. La bella modulazione, è la tua voce come ti ho sempre ascoltato, quindi sia con il Millone, sia con il 7003, verifici che ci siano. Grazie a tutti.